Lei a Tilly ha otto mesi e sarà una futura taglia media. Tilly proviene dalla Calabria, probabilmente è frutto di una cucciolata casalinga. È stata regalata ad una donna molto anziana che non riusciva a stare dietro alle esigenze di un cucciolo esuberante e giovane. Infatti la teneva reclusa in casa senza la possibilità di uscire e sperimentare il mondo che gli stava attorno. Fortunatamente è stata trovata da dei volontari che hanno scoperto la sua storia e l'hanno presa per cercare di migliorare la sua vita e adesso sta cercando una giusta famiglia dove passare la sua bella vita. È una cagnolona molto tenera e dolce, ha ancora tanta voglia di giocare e conoscere il mondo nonostante il suo triste passato che fortunatamente non l'ha segnata. Quindi se vi innamorate dei suoi dolcissimi occhi e della sua simpatia chiamateci pure. Tilli è qui che vi aspetta. E per questo anch'io sono pazzo di te. Non sai come vorrei farmi almeno. E lo sa sono Dio che è più pazzo di me. Avete sentito la storia di Tilli? Viene dalla Calabria ed è stata presa da una signora che non riusciva a prendersi cura di lei. Povera Tilli, non veniva mai portata fuori. Ma perché la signora l'ha presa se non poteva prendersi cura di lei? Forse non sapeva quanto lavoro ci vuole per crescere un cucciolo. A volte le persone pensano che gestire i cani sia facile, ma non è così. Tilli è felice adesso? Sì, i volontari l'hanno portata via per dargli una vita migliore. Adesso deve trovare solo una famiglia che le adotti. Ma perché ci sono tanti cuccioli senza casa? Molti cuccioli vengono da cucciolate casaligne. Le persone non sterilizzano i loro cani e così nascono tanti cuccioli che non riescono a trovare casa. La sterilizzazione non solo aiuta a controllare la popolazione canina, ma previene anche problemi di salute che possono avere le cagnoline femmine. Ma ritorniamo alla nostra Tilli. Ha veramente bisogno di trovare una casa. Quindi per adottarla chiamate al numero 339 1028 604.